A partire da giovedì 27 dicembre fino a domenica 30 dicembre sarà in programmazione presso il Cineteatro Eduardo De Filippo di Agropoli il film Moschettieri del Re la penultima missione. Due gli spettacoli previsti, il primo alle 19 e 15 mentre il secondo alle 21 e 30 e il 1650 o su per giù. Dopo 30 anni di onorata attività al servizio della casa reale i quattro moschettieri hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati. D'Artagnan fa il maialaro, è il gomito dello spadaccino, più un ginocchio fesso. Athos si letta con incontri erotici bisex, ma ha un braccio arrugginito e uno luce valgo. Aramis fa la base in un monastero e non tocca più le armi. E Portos di Madrid è depresso, ma lui precisa triste e infelice, è schiavo dell'oppio e del vino. Ciò nonostante quando la regina Anna d'Austria, che governa una Francia devastata dalle guerre di religione al posto del dissenato figlio Luigi XIV, li convoca per affidare loro un'ultima missione. I moschettieri risalgono a cavallo, di nuovo tutti per uno e uno per tutti.